Ciao a tutti ragazzi, sono io, TheSimoGames e in questo video andremo a parlare del SOPA PIPA due nuove leggi che sono state proposte negli Stati Uniti Allora, innanzitutto inizio a dirvi che queste due leggi sono state rimandate al 2013 perché quest'anno, come alcuni di voi sanno c'è, anzi, la corsa alla Casa Bianca quindi ci sono le elezioni e per evitare un po' degli impicci hanno rimandato al 2013 almeno così c'è scritto sulla Repubblica e ho letto appena adesso che gli elettori, cioè non gli elettori non mi ricordo come si chiamano, comunque quelli che votano le leggi da favorevoli sono passati molti contrari a queste due leggi e quindi anche per questo sono state rinviate e si è stata rinviata la proposta Allora, innanzitutto andiamo a vedere PIPA per cosa sta PIPA sta per Protect IP Act cioè di proteggere gli atti sugli IP mentre SOPA sta per Stop Online Piracy Act che sarebbe per stoppare gli atti pirata, diciamo, online quindi, diciamo e dei prodotti crackati tutte queste cose qui che fanno perdere i soldi alle aziende produttrici e soprattutto quelle che sono protette da copyright poi cosa volevo dirvi ieri, come molti voi sapranno è stato chiuso Mega Upload e Mega Video di conseguenza allora, io volevo fare alcune riflessioni con voi perché ne ho discusso anche un bel po' perché, allora SOPA PIPA non ha intervenuto sulla chiusura di Mega Upload e Mega Video perché Mega Upload e Mega Video sono stati chiusi dall'FBI sempre per l'evaluazione di copyright ma anche per altri reati e quindi non c'entra niente col SOPA PIPA perché il SOPA PIPA ancora non era stato approvato e... insomma, cosa è successo? l'FBI ha chiuso questi due siti perché il fondatore ha oltre ad aver fondato questi due siti che io, fino a poco tempo fa pensavo che non avesse fatto nulla lui cioè non era colpa sua era colpa delle persone che caricavano i contenuti i prodotti dei copyright invece no perché il fondatore oltre a... quindi caricare questi prodotti e non eliminarli per protezione dei copyright ci prendeva anche dei soldi perché la maggior parte delle persone che caricavano questi prodotti erano tutte persone premium quindi i soldi andavano sia al fondatore e che all'azienda e quindi c'era una perdita molto pressante diciamo alle aziende produttrici di questi prodotti e insomma questo fondatore ci prendeva i soldi per questi prodotti che non erano neanche suoi e la stessa cosa per Megavideo perché molti caricavano film e quindi quelli là erano altri soldi perché erano sempre potetti da copyright sempre la storia del premium e quindi ci prendeva anche soldi per questo insomma adesso gli possono dare 50 anni di galera poco ma sicuro e molti altri denunci che dovrà sborsare soldi non so comunque gli Stati Uniti stanno un po' in crisi diciamo e stanno risolvendo questi vari problemi allora io adesso per questa storia di Megavideo e Megavideo non dico che sono favorevole al sopapipa ma anzi sono al 100% contrario a queste due leggi perché? allora Megavideo e Megavideo certo mi dispiace perché anche io usavo Megavideo per caricare la roba e per darla a voi come usavo Mediafire mi dispiace certo anche io vedevo dei film su Megavideo quello è scontato quasi tutti li vedono mi dispiace un po' però c'è anche da dire che era un reato sempre quello perché lui ci prendeva i soldi a noi quindi mi sembra anche una cosa abbastanza giusta però per il sopapipa vi dico che sono come detto prima al 100% contrario a queste due leggi perché ci sono molti rischi come i rischi su Youtube Youtube è stato minacciato di chiudere perché il sopapipa elimina ogni sito che viola i copyright di qualunque casa produttrice la gente carica video con canzoni quindi con contenuti audio con contenuti video tipo spezzoni di film quelli sono sempre protetti da copyright che vengono denunciati sì da Youtube e a volte cancellano i video ma soprattutto gli Stati Uniti che hanno il controllo su tutto perché i server sono negli Stati Uniti possono chiuderlo senza niente così lo chiudere e basta perché nel caso di Youtube sono d'accordo che non deve essere chiuso perché al contrario di Make Upload Youtube non ci prende i soldi per queste violazioni di copyright e anzi il contrario ce lo potrebbe anche perdere magari li denunciano a Youtube e la casa produttrice prende i soldi da Youtube mentre è colui che ha caricato il video che dovrebbe essere denunciato infatti molte volte vengono chiusi i canali ma che fa la gente ne legherà un altri e continuano a violare i copyright continuo e continuo e continuo quindi questa è una cosa mi sembra abbastanza giusta che Youtube non deve essere chiuso quindi se qualcuno di voi ha delle reclami gravi li bravo di togliere subito i video perché è una cosa che poi ricade su tutti diciamo che se Youtube chiude tutti noi Youtuber dove andiamo a finire cioè noi ci dedichiamo il tempo ci siamo diciamo molto affezionati a Youtube ci piace soprattutto fare video e quindi noi a noi come a tutti quanti dispiacerebbe se chiude e per non rischiare io dico a tutti vi metterò anche il link in descrizione se dovesse chiudere speriamo di no mettiamo dita incrociate io invito tutti i canali di farsi un punto di rifiutimento agli iscritti su Facebook su Twitter su altri canali di condivisione video anche se non ce ne sono tanti come Youtube però ce ne sono alcuni diciamo io non ho nient'altro tanto da dire questi sono i miei i miei pensieri tutto tutto il web è a rischio ho sentito che è a rischio anche la gente che è premium su Mega Upload e anche Facebook è a rischio quindi se avete un'idea qualche Youtuber su un punto di riferimento che è sicuro ditelo anche a me ci rincontriamo tutti lì se dovesse succedere qualcosa di sicuro quest'anno forse non succederà niente ma l'anno prossimo può darsi di sì quando verrà ripresa questa legge queste due leggi e poi c'è un'altra cosa voglio dire ragazzi gli hacker gli hacker stanno minacciando gli stati uniti quindi i server statunitensi delle forze speciali cioè forze speciali delle forze dell'ordine diciamo così l'FBI queste cose qui vengono minacciate infatti credo di aver letto mi sembra che sono già stati arrestati i quattro hacker perché bloccano i server statunitensi e quindi regano anche dei danni quindi niente insomma speriamo che non ci vengano altri danni insomma ci sono molti siti molti siti contrari che diciamo mettendo un'email anche fasulla è un nome mandano diciamo una firma agli statuniti per essere contrari insomma vi metterò il link in descrizione perché sono un sito dove stiamo arrivando a un bel traguardo e andate in quel link mettete un'email un nome e il paese e così aiuterete il mondo diciamo e niente io vi saluto sempre stop sopa e pipa e ad un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti